1,9 km di nuoto, 90 km in bicicletta, 21,1 km di corsa, 950 iscritti nella gara individuale e 200 in quella squadre. Questi numeri dell'edizione 2014 di Challenge Rimini, la gara di triathlon che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 maggio. Un weekend sportivo che si prospetta molto fitto con un calendario gare di primissimo livello che affiancheranno Challenge Rimini della domenica. Quest'anno come novità ci sarà un'anticipazione del sabato che non saranno più gare di contorno ma saranno gare vere e proprie perché avremo l'esordio del Grand Prix di triathlon italiano, quindi gare sulla distanza sprint molto combattute con atleti di primissimo livello sicuramente, i più forti italiani e qualche straniero di grande spicco. La frazione di nuoto avrà quest'anno partenza e uscita nella spiaggia libera di Marina Centro, mentre la ciclistica di 90 km porterà gli atleti nell'entroterra su un tracciato leggermente ammorbidito rispetto alle altimetrie della prima edizione. Sono 950 i metri di dislivello, toccheremo i comuni di Coriano, Monte Colombo, Sasso Feltrio, Monte Grimano, Monte Cerignone e Mercatino Conca, quindi tocchiamo gran parte dell'entroterra riminese. Alla fine della frazione di ciclismo torneremo qui a Marina Centro in zona cambio e l'ultima frazione, la mezza maratona, sarà completamente pianeggiante sul lungomare di Rimini, tre giri da 7 km, con l'arrivo qua in piazzale Fellini, proprio davanti alla Fontana dei Quattro Cavalli e al Grand Hotel di Rimini. Grande assente sarà Chris McCormack, il vincitore dell'edizione 2013. A cercare di salire sul gradino più alto del podio ci sarà così Daniel Fontana, che lo scorso anno è arrivato secondo. L'anno scorso è stata una gara difficile, sono stato protagonista fino agli ultimi metri dove nello sprint finale, la volata ho perso con il campione del mondo Macca, l'australiano McCormack, e mi sono preparato per quest'anno cercare di fare quegli ultimi 30-40 metri più veloci e cercare di salire sul gradino più alto del podio.